E beh a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video Oggi siamo qua di nuovo con Andre Ciao E faremo in questo video chi è più forte tra me e Andrea E praticamente Oggi non so perché ma ho deciso che farò due video Non so perché Non so perché mi ha chiamato Manu e ha detto dai facciamo due video Io ho detto Manu Perché due video Vabbè Andre invitami Faccio un attimo Chi è? Ok invitato Davvero? Sì Manu ti stai invitando Ok No mi sono unito dagli amici Ah ok Ragazzi se non l'avete letto ci sarà super slide Al primo e poi negli ultimi due round ci sarà Bloc d'ascendo E all'ultimo round Sembra Bloc d'ascendo Ma senza emoticon Se arriviamo al terzo round Perché forse arriviamo Se uno fa due Vince due partite Praticamente inutile Andre ma non scordarti che questa è l'ultima sfida Tra noi due Poi ce ne saranno altre Ci sarà la Ma perché ti ti assaltato di più Perchè ti ti assaltato di più Scusa Eh perché io ero sopra di te No Andre io ero sopra di te Ti ho praticamente blood imboccato Un po' dopo però Ma super slide All'inizio sembra che dura un botto Ma ora che siamo Direi mano siamo diventati pro player Dura pochissimo Andre non dire che siamo pro player Perchè poi non è vero Andrè hai vinto Mi mangio la mano Mi mangio Me la mangio per pranzo Me la mangio Hai già fatto pranzo? Non lo so Però Per secondo pranzo? Eh sì Faccio lo sputtino di mezzogiorno Anche se sono i 14 e 15 Però vabbè Vabbè fa niente Facciamo che sia a mezzanotte Mezzogiorno e mezza Appunto sì Ragazzi una domanda Ma da voi come sta andando la scuola? Da noi? Andre? Bene Eh diciamo Ma c'è sta cosa che anche mi dà fastidio Le magliette Ma quelle magliette Sono pure un po' pesanti quelle magliette No ma sono fighe dai Sono fighe Ma però una cosa Era meglio col grembiule No no Perché uno Ma che sta a dire? Perché poi all'inizio Non lo mettevamo in inizio a scuola Il grembiule Eh ma no Lo mettevamo dopo un po' Andre l'ho presa apposta Andre lo sai perché secondo me Quelle magliette sono meglio? Perché sono maniche corte Uno per questo Poi due per toglierte Non ci metti così tanto Ad allacciare Mettere i bottoni Invece basta che te le picchi Che mi fa un po' stracchio Allora ma vabbè Detto così fa È un po' difficile Ma vabbè Ma mi stavi per far perdere il round Mi stavi per far perdere il round Perché? Perché mi stavi per dare quel pugno Che tra un po' mi faceva stare E' un po' di bloccato E' un po' di bloccato E' un po' di bloccato Eh no Eh no Sono il balletto Togliamolo proprio dall'emoticon Dopo sbagliamo di usarlo Ok Perché tu c'hai quattro emoticon E' una palla Il pugno E' la scivolata Ah metto Questa Io mi metto La lavatta di Mr. Beast Al posto dei soldi Con questa Al posto della palla E metto la samba Al posto della scivolata Ok andrì La samba Andrì Ah giusto Andrì Ti devo invitare io a te Giusto giusto Ma è Io entro Nei amici Pronto Andre Questo è l'ultimo round Andre Questo è l'ultimo round E se moriamo Tutte e due Nello stesso momento Eh dobbiamo Vedere quello Che decide Stumble Appunto Perché se noi Moriamo Nello stesso Secondo Non ci hanno vinto Nessuno È impossibile Che moriamo Nello stesso momento Quello è poco Ma sicuro Che è impossibile Ci credi con tre balli A B C No No Giusto Non ho la scivolata Oddio Mi ero abituato troppo Mi stavo vedendo Stavo dicendo Manu Che stai qua Perché pensavo Che avevo la scivolata Tutte Tutte E tutte le volte Che l'ho usata Oddio Mandalorian Che c'è Che c'è Tanto Mandalorian Per Cazzo Hai visto I suoi soldi Così Non ti posso Non ciò Nei Senti Ok Vabbè Qua possiamo Stare Tranquilli Ma Questa mia Manu Come ti sei salvato Stavo per morire Come un pagliaccio Stavo per morire No Come C'erano Gustavi Per morire Che vuol dire Eh E ragazzi E ragazzi Oggi Ci sta Il derby Di Milano What Ah Il derby Bello Di Gaia No no Quello è Roma-Lazio Questa mia Dimano Questo è il tallone Di Achille Di Andrea Di Sì 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 Un vero Omo Ripalla Ok 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 con l'emoticon e allora dimelo prima intanto facciamo un saluto a Jessica God Enrico 2387 che sono online appunto dai Andre sbaglio sempre in quello lì che praticamente io sbaglio sempre a saltare e non lo prendo cioè devo fare pam pam e pam e se sei un vero uomo dopo di questo se vinci tu facciamo un'altra se vincoglio basta ok 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 Manu sei già pronto a spaccarmi discivolate si si e ho un po' di più un po' di nuovo oh adesso voglio usare le scelte è fantastic ma che bui sbagliare siamo per morire siamo oh 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 per morire come on baby ah 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 come on baby vabbè 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 manu lasciamo stare sono passato sono passato oltre il muro andre mi avevi colpito manu eri una trottola ah davvero ehm hai visto prima che ti avevo fatto la scivolata eh si ehm io avevo colpito quella cosa che hai tu però con la scivolata è scomparsa eh si l'ho visto ma pure io stavo dicendo quante la dovrebbe tipo annullare la scivolata eh boh vabbè io me la scivolò qua ma pure io me la sto oscillando un po' no si 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 c'è una partita contro i metti matti no ma e dopo il video intendo io ah ok e vabbè ragazzi questa sfida l'ho vinta io che e forse ce ne sarà una prossima vero andre potrebbe e vabbè ragazzi ci vediamo in un prossimo video bella ciao